Montesano, pubblicato il bando per la messa in sicurezza delle strade rurali di Tardia, Pagliano, padula, il 27 settembre, il secondo concorso di poesia e arte organizzato dall'Associazione Nuove Idee, Teggiano, successo ieri sera per il Monte Pruno Summer, presso il Castello Macchiaroli, Arbitri, raduno di Can 5, organizzato dall'AIA, presente la sezione di Sala Consilina, Calcio, ecco i calendari di eccellenza e promozione, domani derby di Coppa tra Sassano e Valdiano, Buonasera e benvenuti alle informazioni serali di Uno TV. La prima notizia. La scorsa notte, nell'ambito del servizio di controllo del territorio, i militari della compagnia di Sala Consilina, a Teggiano, in località Codaglioni, hanno tratto in arresto un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza di buon abitacolo. L'uomo è stato bloccato da una pottuglia della stazione di Sassano, che ha notato l'autovettura sbandare. Bloccato immediatamente, per l'uomo sono scattate le manette, in quanto non poteva uscire nelle ore notturne ed allontanarsi dal comune di residenza. Inoltre, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Si trova ora distretto presso le camere di sicurezza della compagnia, in attesa di rito direttissimo. Ora ci spostiamo a Montesano, dove è stato pubblicato, sul sito del comune di Montesano sulla Marcellana, il bando per l'assegnazione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle arterie in località Tardiano di Montesano. Ad annunciarlo l'assessore Rinaldi, a nome dell'amministrazione comunale. Sul sito del comune di Montesano sulla Marcellana è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori e per la messa in sicurezza di alcune arterie comunali che necessitano di interventi, il cui ripristino e miglioramento della funzionalità sono parte del progetto presentato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini. A dare notizia l'assessore Giuseppe Rinaldi che ha annunciato anche le località che saranno oggetto di lavori da avviare entro i prossimi mesi, subito dopo la giudicazione dei lavori. Le strade su cui sono previsti i lavori sono Valle Cerasa, Mar Musiello e Tempa Carrozza in località Tardiano di Montesano che saranno finanziati con fondi del piano di sviluppo rurale 2007-2013 per la misura 125 e che riguarda proprio la risistemazione e il miglioramento della viabilità sulle strade rurali. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 29 settembre prossimo alle ore 13. L'appalto riguarderà lavori per l'esecuzione delle opere di sistemazione delle strade rurali per il rifacimento del manto stradale, opere di reggimentazione delle acque e opere di ingegneria naturalistica per un importo totale disponibile di circa 229 mila euro. Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Fiore Volentini per questo ulteriore finanziamento che consentirà la sistemazione, la messa in sicurezza e la fruizione agevole della viabilità in diverse aree della zona alta del territorio comunale. Entusiasta anche il vice sindaco Francesco Radesca il quale aggiunge con questo finanziamento per la sistemazione di alcune strade nella frazione di Tardiano, sarà possibile rendere sempre più sicura ed efficiente la viabilità comunale dell'area in oggetto, favorendo cittadini, imprese agricole ed altre attività oggi non facilmente raggiungibili. Un'opera pubblica particolarmente attesa dai cittadini delle località prevista. Sulla nuova legge sui reati ambientali e sulla richiesta avanzata dal Papa di amnistia abbiamo ascoltato l'opinione del procuratore del Tribunale di Vallo della Lucania, il dottor Giancarlo Grippo, che ha offerto diversi spunti di riflessione. Tutto quello che viene fatto in materia ambientale è utilissimo, sono tutti strumenti che servono non dico a combattere la grossa illegalità, quale potrebbe essere non solo l'illegalità della zona del Napoletano e il pericolo della terra dei fuochi, ma anche nelle zone più tranquille, anche quelle dell'entroterra occidentano, ci possono essere delle situazioni che meritano attenzione per le quali occorrono strumenti normativi come quelli che sono ora entrati in vigore e che sono utilissimi per poter fare argine alla criminalità in questa materia. Negli ultimi giorni è forte la voce di un'amnistia? La Chiesa quando parla di amnistia parla di un intervento di tipo spirituale, io leggevo proprio sul giornale che forse l'ultimo invito di alcuni anni fa di Papa Poetida non era stato accolto dal nostro Parlamento. Credo che sotto il profilo spirituale la Chiesa ha fatto molto e lo sta facendo anche sotto il profilo dell'indirizzo che dà alla società civile. Ieri mattina era in programma il Consiglio provinciale a Salerno che alla luce delle recenti sentenze sfavorevoli all'ente doveva approvare, tra le altre cose, anche ulteriori debiti fuori bilancio. Tra i banchi della maggioranza erano assenti i consiglieri Paolo Imparato, sindaco di Padula, e Nino Savastano, assessore di Salerno. L'abbandono dall'aula di parte del centro-destra ha fatto venir meno il numero legale e così la seduta è saltata e con esse rinviate le votazioni e gli ordini del giorno in programma. Restando sempre a Salerno, il consigliere comunale di minoranza del comune di Salerno, Roberto Celano, ha esposto in una conferenza stampa l'incongruenza a suo avviso del bilancio di previsione del comune. Celano ha scritto ai revisori e alla Corte dei Conti, contestando anche il rinvio del Consiglio comunale. Ritardi, incongruenze e cifre che ballano da un anno all'altro sono gli elementi per i quali il consigliere comunale di NCD, Roberto Celano, tra i pochi a restare seduto tra i banchi dell'opposizione a Palazzo di Città, definisce in difetto di veridicità il bilancio di previsione del comune di Salerno. I ritardi sono quelli relativi alla convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione dello strumento finanziario, questione sulla quale Celano ha anche sollecitato un intervento della Prefettura di Salerno. I dubbi sulle cifre ruotano invece attorno a introiti legati alla tassa sui rifiuti che, invece di essere stati ridistribuiti ai cittadini per alleviare il costo della spazzatura, sono stati utilizzati per fare altro. Celano parla di una truffa. Ai danni degli abitanti di Salerno è intorno ai 15 milioni di euro. Io ho fatto scrivere nel verbale in commissione che questo bilancio non rispetta i principi contabili, in particolare il principio della veridicità, quindi se non è veridire è evidentemente falso. Ci sono delle voci di costo che sono presenti nel piano economico finanziario, per esempio delle tariffatari, illegittimamente, che scompaiono dal bilancio di previsione, tipo l'accantonamento al fondo per 5 milioni di euro al fondo svalutazione crediti. Vi sono incongruenze che abbiamo rilevato anche nella gestione del ciclo integrato di rifiuti, quindi nelle tariffe applicate già nel 2014. C'è un accantonamento al fondo svalutazione crediti che scompare addirittura nel conto consentivo, con economie di coste che non sono state poi riprese a favore dei cittadini nel 2015 nella tariffa. Lei parla di oltre 10 milioni di euro che sono stati truffati ai cittadini? Io credo intorno ai 15 milioni di euro perché ci sono anche le discussioni per le entrate fiscali che, secondo l'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbero scomputate dal costo del ciclo integrato da coprire con la tariffa e invece non è stato fatto. C'è una truffa perpetrata ai danni dei cittadini che vengono tartassati e spremuti come dei limoni e le entrate che vengono acquisite dalla Tarsu e dalla Tari adesso vengono evidentemente utilizzate per altri costi, per altre spese e non per coprire il costo del ciclo integrato dei rifiuti. Se questi soldi fossero impiegati nel ciclo dei rifiuti pagheremo di meno? Pagheremo molto di meno. Quest'anno avremmo dovuto risparmiare, ripeto, circa 15 milioni di euro su 40 milioni che invece sono stati richiesti dal Comune ai cittadini sotto forma di tariffa. Si rinnova per il secondo anno il concorso di poesie e arte organizzato dall'Associazione Nuove Idee di Padula. A margine del concerto lirico-sinforico svolto sino allo scenario della Certosa di San Lorenzo a Padula, Pietro Cusati, ha intervistato la professoressa Prina Sorrentino e ha parlato della seconda edizione della manifestazione e della novità di quest'anno. L'edizione di quest'anno verrà fatta con la seconda edizione del concorso bandito dedicato a Padre Minozzi che è in via di santità. Il concorso è dedicato all'arte e alla poesia. L'anno scorso l'abbiamo svolto e quest'anno è la seconda edizione. Le novità di quest'anno del concorso? Bella novità, oltre al concorso abbiamo una bella novità perché uno degli orfani ha scritto un libro sulle poesie di Edoardo De Filippo e l'ha visto da vicino perché è vissuto in questa casa orfano della Certosa e ha pubblicato questo libro di Edoardo visto da vicino. Speriamo che si svolgerà bene come l'anno scorso, in effetti i reperti da esporre sono già arrivati e da premiare parecchi. Lo scenario della Certosa di Padula? La Certosa di Padula. In effetti tutta questa storia si rivolge agli orfani di guerra che sono stati in questa Certosa. Sono vissuti dal 1923 al 1956, 37 anni. Nello scenario del castello Macchiaroli di Teggiano, ieri sera si è svolto il Monte Pruno Summer, un successo della manifestazione, voluto e organizzata dall'Istituto di Credito Cooperativo per celebrare gli ultimi risultati ottenuti nel primo semestre del 2015. Ieri sera, nello scenario splendido del castello Macchiaroli di Teggiano, si è svolto il Monte Pruno Summer, la festa organizzata dall'Istituto di Credito Cooperativo diretto da Michele Albanese per celebrare gli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre 2015. La serata ha visto, dopo la presentazione dei risultati fatta dal responsabile dell'area direzione della banca, Cono Federico, le esibizioni delle loving accompagnate dall'orchestra del maestro Antonello Cascone e gli spettacoli dell'attore Sasà Trapanese e Gino Rivieccio. Un'ottima risposta di pubblico e una grande serata presentata da Anna Maria Sodano e dalla responsabile della comunicazione della banca Montepruno, Antonio Mastandrea. È una serata di feste, è una serata che ripetiamo qua a Teggiano in questo magnifico castello perché Teggiano ci ha visto protagonisti come primo sportello su questo comune e come segno di riconoscimento verso questa gente, verso questa filiale, questo popolo la banca ha deciso di tenere una serata summer qua proprio in questo castello. La serata serve proprio per portare a conoscenza dei più, dei soci, dei clienti, di tutti gli amici, gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto nel primo semestre e che continuiamo a raggiungere giorno dopo giorno. Siamo molto soddisfatti di quanto stiamo facendo, siamo soddisfatti di quanto il territorio ci sta dando e ci sembra naturale e quasi obbligatorio restituire al territorio ciò che il territorio ci dà. Una serata che chiude questo ciclo di appuntamenti che abbiamo voluto organizzare, Montepruno Summer. Dopo il Montepruno Day e dopo il concerto di Don Bachi siamo qui stasera a Teggiano per questa bellissima serata. Lo facciamo in uno scenario particolare, in uno scenario unico che è quello del Castello Macchiaroli e del centro storico di Teggiano. Teniamo tanto alla crescita dei centri storici ma teniamo particolarmente tanto a quello che è il centro storico di Teggiano e stasera con questo nostro evento cerchiamo un attimino di valorizzarlo ancora di più. Da questo come sempre accoppiamo quelli che sono i nostri risultati economici e riscontriamo ancora una volta margini in crescita, riscontriamo ancora una volta le grandezze economiche patrimoniali in continuamento. È un segnale importante e in questo modo vogliamo ridare al territorio quello che poi il territorio ridà a noi. Bellissimo, io non l'avevo mai visto, interessante, storico paese del Salernitano e devo dire poi questo posto in particolare, il Castello, stasera rispiamo area medievale da queste parti e quindi anche l'albergo che ci ospita, complimenti all'organizzazione, agli amici alla banca del Montepruno e soprattutto complimenti al tempo che stasera ci ha graziati, visto che l'altra volta la serata fu rimandata per condizioni meteorologiche, stasera c'è il sole anche a mezzanotte. Domani domenica 6 settembre a partire dall'eventi nel centro storico di Teggiano, serata di intrattenimento per i bambini con gonfiabili, trucca bimbi e animazione. L'evento voluto dall'amministrazione comunale di Teggiano è stato realizzato in collaborazione con la banca Montepruno e la Montepruno Baby. Ora una piccola pausa pubblicitaria. Ha preso il via mercoledì 2 per concludersi lunedì 7 settembre il raduno precampionato per gli arbitri e osservatori di Cannes 5, calcio a 5. A raduno partecipano anche Giampiero Caffaro e Giuseppe Aumenta della sezione di Sala Consilina. È ufficialmente partito lo scorso 2 settembre il raduno organizzato dall'AIA per arbitri e osservatori della categoria Cannes 5, calcio a 5. Presenti al raduno anche due associati della sezione di Sala Consilina, Giampiero Caffaro e Giuseppe Aumenta. Il raduno precampionato proseguirà fino al prossimo 7 settembre con tutta una serie di impegni a cui saranno chiamati per la loro formazione e per giungere preparati alla prossima stagione 2015-2016. I due associati della sezione di Sala Consilina, Caffaro e Aumenta, sono ora impegnati al Centro Sport Italia dove sono giunti mercoledì scorso accolti insieme ai loro colleghi dal commissario Massimo Cumbo. Il responsabile ha voluto dare il benvenuto a tutti gli arbitri ed in particolare ai 58 neopromossi in categoria con un discorso che ha ricordato soprattutto ai nuovi arrivati il ruolo stagione andranno ad assumere, sottolineando come i momenti in cui arbitri e osservatori sono chiamati a presentarsi ai ritiri precampionato rappresentano fasi fondamentali della loro attività da affrontare con serenità e senza ansia, essendo arbitri nazionali. E sono giorni di condivisione del quale bisogna sapere approfittare. Lezioni in aula ma anche allenamento, assistiti dai preparatori, occasione da sfruttare per gestire al meglio i test atletici a cui si aggiungono diversi momenti formativi che vanno ad interessare soprattutto l'aspetto tecnico come la gestione delle panchine, contatti alti, vantaggio dopo il quinto fallo e sostituzione nella decisione. Tutti argomenti la cui discussione e approfondimento viene supportata con immagini video con la presenza e l'intervento del settore tecnico di Antonio Mazza, coordinatore del modulo per il calcio a 5. In tal modo gli arbitri presenti al raduno hanno potuto meglio recepire le informazioni che possono garantire loro una maggiore dinamicità di arbitraggio e decisioni immediate, essendo arbitri che lavorano in coppia e quindi è anche necessario garantire la massima uniformità nelle decisioni. Il raduno Can 5, a cui stanno partecipando anche i due associati della sezione di sala consigliere, Giampiero Cafaro e Giuseppe Aumenta, chiude così la serie di stage che l'Associazione Italiana Arbitri organizza per le varie categorie prima degli inizi dei campionati. La settimana scorsa infatti è stata la volta della CAI, Commissione Arbitri Interregionali, rappresentata da Sala Consilina con l'arbitro Cristian Robilotta. Sia il Valdiano che il Sassano avranno le sordi esterni in campionato. La squadra blaugrana giocherà contro il Sant'Agnello, che così come il Calpazio, avversario del Sassano, sono le favorite per la vittoria finale dei rispettivi gironi. Come annunciato nei giorni scorsi, la Fidici Campani ha dirimato ieri i calendari ufficiali della stagione 2015-2016 per i campionati di eccellenza e promozione campana. Nel girone B di eccellenza il Valdiano di Mister Masullo avrà un esordio tutt'altro che semplice. Spinelli e Soci se la vedranno in trasferta contro il Sant'Agnello, squadra che parte con ambizione di promozione mancata lo scorso anno nella lotteria dei play-off nazionali. Per i blaugrana, il primo impegno interno della stagione contro il Massa Lubrense, squadra che insieme ai valdianesi lotterà per conservare la categoria. Ebolitana in trasferta e US Scafatese in casa completano il quadro del primo mese di campionato per la compagine di Patron Cardinale. La salvezza passerà dagli scontri diretti contro Montesarchio alla quinta, San Vito Positano alla sesta, Palmese all'ottava e San Tommaso all'undicesima, infine Cassel San Giorgio e Sant'Antonio Abate rispettivamente alla quattordicesima e all'ultima giornata. Nel girone D di promozione invece esordio esterno anche per il sassano del presidente di Cerdone che troverà a giocare in casa del Calpazio, squadra che dopo aver perso la finalissima playoff lo scorso anno punta al ritorno in eccellenza. A battagliare con i Granata sicuramente il Picciola e il Real Pontecagnano. Tra le sorprese potrebbe uscire alla distanza Buccino, Costa d'Amalfi e Salernum. Per quanto riguarda il sassano, l'esordio al San Giovanni sarà contro il Buccino alla seconda giornata, squadra che si è rinforzata con gli arrivi di Montera e di Poto. Canna longa in trasferta e temeraria in casa completano il quadro delle prime quattro giornate per la squadra di mister Letteriello. Olimpic, Salerno, Vigor Castellabate e Picciola invece saranno le ultime tre gare da affrontare per il sassano che spera, così come lo scorso anno, di arrivare nel finale di stagione con la salvezza conquistata in largo anticipo. La prima giornata di campionato si giocherà il prossimo 12 e 13 settembre. Intanto è in programma domani nello stadio San Giovanni di Sassano la prima gara ufficiale della stagione per il vardiano di mister Masullo e per il sassano del presidente Ricciardone. Una gara tra gli esponenti più importanti del calcio dilettantistico valdianese. Con mister Masullo abbiamo parlato di questa prima gara della stagione, importante per preparare il campionato e della crescita degli under, importanti in campionati di eccellenza. No, no, certamente è un banco di prova importante, importantissimo, a parte che è un'astra cittadina. Diciamo che sono i due massimi esponenti del calcio nel Vallo di Diano. Sassano so che hanno costruito una buona squadra e quindi ci sarà sicuramente da lottare. Speriamo di di partire bene perché poi sia noi che loro sono organici rinnovati, allenatori nuovi e quindi speriamo di fare bene come lo speriamo noi. Siamo convinti che anche loro hanno la stessa nostra ambizione. Io spero che sia una partita innanzitutto di sport, che è la cosa importantissima e poi naturalmente che venga il migliore. Sì, abbiamo ereditato un buon gruppo di under già esperti, tra virgolette, anche se sono dei ragazzini. Quest'anno si è abbassata ulteriormente l'età degli under, quindi siamo scesi al 98 e lì stiamo lavorando. Abbiamo fatto vari stage, abbiamo visto tantissimi ragazzi interessanti e naturalmente alcuni si sono aggregati, altri no per problemi logistici. Su questa fascia d'età bisognerà lavorare e lavorare tanto. Anche oggi abbiamo in prova alcuni ragazzi e resteremo sempre alla ricerca di quella che è la pedina migliore da poter mettere in campo. Sappiamo che rispetto alle grosse realtà del napoletano, del salernitano siamo svantaggiati perché hanno un bacino d'utenza superiore al nostro di Granlunga dove attingere. Però stiamo lavorando bene, abbiamo delle risorse interessanti e cercheremo di valutarle al meglio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video, grazie per aver guardato il video.